Quando ormai qualche anno fa mi sono iscritto all'università per studiare cinese non avevo idea che sarei andato incontro allo studio di una delle lingue più difficili da studiare o forse addirittura considerata per un occidentale la lingua più difficile. All'epoca non c'erano blog, non c'erano tutorial o altro che ti insegnassero la lingua. Ero un giovane desideroso di conoscere meglio questa cultura così affascinante e di comprendere nei segreti della lingua, di comprendere cosa significassero tutte queste casette così come amava definirle mia nonna e comprenderne quindi il segreto. A casa mia c'era l'inglese per tutti della De Agostini, c'era il tedesco per tutti della De Agostini ma il cinese per tutti proprio non l'ho mai visto. In quel periodo se non conoscevi qualcuno che effettivamente studiasse la lingua, l'avesse studiata o cosa ancora più difficile vivesse in Cina non sapevi davvero cosa aspettarti della lingua cinese. Nessuno mi aveva nemmeno mai detto che si trattasse per esempio di una lingua tonale. Perché ho fatto questa piccola introduzione sul fatto che non fossi a conoscenza di quali erano le difficoltà della lingua cinese quando ho iniziato a studiarla? Perché ritengo fondamentalmente che non dobbiamo farci influenzare, farci condizionare da quanto una lingua sia difficile o da quanto sia considerata difficile. Quello che importa è la motivazione che abbiamo per studiarla. Più saremo motivati a studiare una lingua più sarà facile l'apprendimento. Ad esempio se siamo appassionati di K-pop coreano saremo più incentivati a studiare la lingua coreana. Se invece ci innamoriamo di una bella ragazza giapponese allora magari saremo più invogliati a studiare il giapponese. E se siamo dei grandissimi amanti di involtini primavera e ravioli al vapore allora la lingua cinese è quella che fa per noi. Ma veniamo a noi ed entriamo nel vivo di come ho imparato la lingua cinese. Per prima cosa bisogna premettere che la lingua cinese è una lingua non alfabetica. Non c'è un alfabeto con cui si scrivono le parole. Ad ogni carattere corrisponde un significato e un suono. Per questo motivo bisogna imparare molto bene ogni carattere quindi ogni parola come si scrive come si pronuncia e cosa significa. Per fare questo soprattutto all'inizio è importante scrivere tantissimo scrivere scrivere scrivere. Ogni parola ogni carattere da imparare va ripetuto tantissime volte. Più avanti si va con lo studio e ovviamente più facile sarà perché ci sono ovviamente anche delle tecniche per scomporre i caratteri e impararli più rapidamente ma è necessario comunque scrivere scrivere tantissimo. Uno dei problemi che ci sono ad esempio in Cina attualmente con cui mi sono scontrato anch'io quando ho vissuto e lavorato in Cina è il fatto che al giorno d'oggi si usa sempre meno la calligrafia la scrittura a mano ma si usano altri dispositivi come ad esempio il computer per scrivere le mail o il cellulare. In questo modo ci sono dei sistemi di input della scrittura che non sono lo scrivere direttamente il carattere e c'è una grandissima differenza tra il riconoscimento passivo di un carattere quindi vedere un carattere cinese e ricordarsi cosa significa come si pronuncia e saperlo scrivere. Capita alle volte ma anche ai cinesi stessi e in parte vedo anche per il giapponese per i giapponesi che non facendo esercizio non scrivendo a mano le parole con il tempo ci si dimentica come si scrivono quindi fondamentale non sottovalutare la scrittura ma scrivere tantissimo fare tanto esercizio per ogni parola che si deve imparare. Rispetto a quando ho iniziato a studiare io alla fine degli anni 90 al giorno d'oggi ci sono due grandissimi supporti molto importanti la musica e i video. All'epoca quando si studiava cinese ascoltavamo la lingua attraverso le audiocassette degli insegnanti dopo qualche anno magari sono arrivati anche i cd ma all'inizio erano proprio le audiocassette con una qualità del suono davvero bruttissima e il materiale a disposizione era anche pochissimo non c'erano molti contenuti disponibili. Ricordo infatti che la prima volta che sono stato in Cina ho fatto davvero incetta di cd musicali e di film cinesi proprio per aver poi la possibilità di averli a casa e di ascoltarli. Essendo la lingua cinese una lingua tonale molto musicale quindi l'ascolto della musica sicuramente può aiutare molto l'orecchio a ricordarsi delle frasi a ricordare come vengono dette e perché no vanno molto di moda i drama orientali coreani giapponesi e anche cinesi e taiwanesi quindi l'ascolto di questi drama sicuramente è d'aiuto. Ricordo che quando sono stato io in Cina la prima volta andava di moda il Meteor Garden, il Liu Xinwei e mi sono comprato l'intera serie e l'ho guardata diverse volte e questo sicuramente mi ha aiutato molto a fare un buon esercizio di ascolto. Potrà sembrare banale ma una delle cose più importanti da fare è quella di andare in Cina e fare un'esperienza di vita in loco. Dico questo perché ho avuto diversi compagni di università che non hanno voluto o magari non hanno potuto andare in Cina e trascorrere un periodo da e la differenza di apprendimento della lingua è davvero notevole anzi devo dire che secondo me chi non c'è mai andato difficilmente può dire di avere imparato veramente la lingua. Questo ha un approccio differente soprattutto poi in ambito ad esempio lavorativo nell'uso quotidiano di come ci si sente naturali nel parlare la lingua perché immergendosi nella quotidianità della vita del posto si userà la lingua in maniera molto più spontanea rispetto a chi l'ha imparata in maniera solo scolastica. Tenete presente poi che la Cina è vastissima, è molto grande e cambia molto la gente come parla da zona a zona, da città a città, l'accento, la pronuncia, magari anche la scelta di vocaboli e quindi andando e vivendo là si sentirà anche il cinese parlato da diverse persone e quindi ci si abituirà maggiormente alla lingua che può variare molto come dicevo da zona a zona. Quando vivendo in Cina la nostra vita è permeata tutti i giorni dalla lingua cinese si faranno appunto diverse esperienze parlando con i colleghi di lavoro, parlando con il tassista oppure ad esempio con la cameriera per ordinare da mangiare o con i vecchietti al parco che ti faranno magari mille domande. In questo modo si acquisterà appunto una spontaneità maggiore con la lingua, una confidenza maggiore con la lingua e cosa importante ovviamente facendo un'esperienza di vita là si capirà anche se la lingua ci piace, se ci piace effettivamente come la lingua, se ci piace il posto e se ci piace come si sta là. Quindi capiremo ovviamente se quello che abbiamo studiato è messo in pratica in un modo che a noi piace o se magari invece stiamo studiando qualcosa che poi ci accorgiamo non fa per noi. Quindi fare un'esperienza di vita in Cina è davvero fondamentale. Purtroppo in questo periodo storico andare in Cina è davvero difficile quindi tutti quelli che lo stanno studiando si trovano in una situazione molto difficile. Ma se siete davvero interessati ad imparare il cinese appena ci sarà la possibilità di andarci assolutamente raccomandato cercare di fare un'esperienza anche eventualmente breve ma fare un'esperienza di vita in Cina. Insomma per riassumere un po' quello detto finora per imparare bene la lingua cinese secondo me è fondamentale avere innanzitutto una grandissima passione per la lingua e per la cultura perché senza questo dopo il primo entusiasmo iniziale magari per la novità della lingua ci faremo scoraggiare dalla difficoltà e ci arrenderemo mentre se abbiamo una passione per quello che stiamo facendo saremo più propensi ad andare avanti e resistere anche alle numerose difficoltà che ci saranno. Ricordo che è fondamentale scrivere tantissimo per imparare bene questi caratteri cinesi, fare tanto esercizio di pronuncia per imparare bene la pronuncia tonale cinese che è veramente un altro ostacolo molto importante della lingua, ascoltare tanta musica, guardare tanti video se possibile in lingua cinese anche magari all'inizio senza capirli ma tenerli in sottofondo per abituarsi al suono, alla cadenza, alla musicalità della lingua e quando possibile, quando sarà possibile un'esperienza di studio o di vita in Cina per quanto breve ma assolutamente assolutamente da fare. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, se è così vi invito a mettere un bel mi piace, se non è stato così riguardatelo magari cambiate idea. Se volete iscrivervi al mio canale per vedere altri video come questi mi fa davvero piacere e mi aiutate a supportare il canale. Per questo è tutto invece e noi ci vediamo alla prossima. Grazie mille, ciao!